Un punto di inizio e non di arrivo. Questo vuole essere l'osservatorio provinciale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso presentato oggi. L'osservatorio auspica la collaborazione e il sostegno trasversale della società per contrastare una criminalità, come più volte segnalato, che da tempo tenda ad infiltrarsi nel nostro tessuto sociale ed economico, soprattutto in un periodo di forte crisi come questo. Attenzione dunque ai segnali che arrivano per esempio da banche, commercialisti, notai, ma anche dal settore turistico commerciale. Il prefetto proprio questa mattina ha segnalato 200 cambi di proprietà nel settore alberghiero. Sapere che è attraverso la responsabilità di ognuno di noi che la criminalità può o non può infiltrarsi in questo territorio. Avere la possibilità di una conoscenza maggiore per esempio delle banche dati, sapere per esempio che Stefano Vitali ha acquistato e venduto nell'arco di un anno, qualche mese, 10 o 12 attività. E allora magari sapere che su questa persona magari bisogna chiamarle forze dell'ordine e dire guardiamoci un attimo. Prova tangibile della presenza di capitali criminali sul territorio sono i beni confiscati perché rappresentano materialmente il potere dei boss, ma sono anche prova di un riscatto delle istituzioni e della società. 86 quelli confiscati in Emilia-Romagna, 26 le aziende, 282 nel nord Italia e 223 soli in Lombardia, 3 quelle confiscate a Rimini. L'Emilia-Romagna è la terza regione per numerosità fra le regioni del nord Italia e la seconda regione con 26 aziende confiscate per presenza di capitali mafiosi. Tutto questo quindi ci deve porre degli interrogativi. Il primo è come è stato possibile questo, ma il secondo ci deve spingere ad agire. Quei beni devono ritornare alla collettività e per ritornare alla collettività non c'è bisogno esclusivamente, seppur necessariamente, di magistrati e delle forze dell'ordine, ma c'è bisogno di politici onesti e competenti e di cittadini sensibili e non indifferenti.